Un saluto dal TG della mobilità, il decreto infrastrutture approvato dal Parlamento ha portato con sé alcune novità anche per il codice della strada in vigore da oggi. Ne ripercorriamo alcune, chi lascia l'auto in un parcheggio riservato ad una persona con disabilità ora rischia una multa fino a quasi 700 euro e 6 punti di decurtazione sulla patente e poi casco in moto, multa anche al conducente sempre se il passeggero è senza casco. Alla guida la durata del foglio rosa viene allungata a un anno e per l'esame della patente B vengono concessi tre tentativi e non più due.